Abbiamo catturato questo gecko. Voi com'è incassato, perché lui gira e vuole stare dove vedi il gecko. Però dopo ti dispiace, non già. Vedi, il gecko. Questi gecki, cinque piedi, vè. Dì, ma quello sarebbe venuto il gecko, eh? Si vede il gecko? Catturiamo il gecko. Per la pancia del gecko. Vedi, per la pancia. E sta appeso anche nel vetro, il gecko. C'è come incassato, poveretto. Lo rimandiamo in giro così. Lo andiamo a liberare dove l'abbiamo preso. Facciamo. Chi è favorevole a liberare il gecko, chi è contrario. E poi, quando ci resta. Per liberare il gecko, immediatamente, telefonate.